La BCC Montefruno vicina anche alle associazioni sportive al fine di diffondere sempre più il valore dello sport per la tutela della salute. Nell'ambito di tale iniziativa, l'Istituto di Credito diretto da Michele Albanese ha messo a disposizione della FIGIC Italia, Comitato Regionale Campania e dell'Associazione Italiana Arbitri, sezione di Sala Consilina Antonio Parrella, la Sala Cultura della sede di Sant'Arsenio della Banca per discutere di un progetto che vede coinvolti oltre alla BCC Montefruno anche le associazioni organizzatrici. La presentazione del progetto è prevista per lunedì prossimo 28 ottobre alle ore 17.30 nell'ambito dell'appuntamento di grande spessore divulgativo e scientifico. Il tema della salute nello sport rappresenta un cardine per questa attività e la giusta prevenzione cardiovascolare nello sportivo è elemento fondamentale per non correre rischi, avendo la necessaria consapevolezza di quello che si sta facendo. L'evento, dal titolo La salute ci sta a cuore, punta a sensibilizzare gli sportivi sull'importanza della prevenzione sanitaria. Ad aprire i lavori sarà il direttore generale della BCC Montefruno Michele Albanese che ha spiegato «Rinnoviamo la nostra collaborazione con la sezione AIA di Sala Consilina Antonio Parrella per discutere ed approfondire tematiche rilevanti nel mondo dello sport e non solo. Siamo particolarmente felici, ha proseguito il direttore Albanese, di tenere presso la nostra sede questo evento con rinomati professionisti specializzati in questa materia. La prevenzione nello sport e anche nella vita è indispensabile e dare alla nostra comunità elementi per aumentare la sensibilizzazione e la consapevolezza è la strada migliore per continuare a svolgere al meglio il nostro ruolo. Enorme è anche la soddisfazione del presidente della sezione AIA di Sala Consilina Manuel Robilotta, il quale ha dato risalto ad un evento importantissimo per la salute dei propri arbitri e degli atleti che esercitano attività sportive nei campi del territorio. L'evento vedrà la partecipazione e gli interventi di numerosi relatori esperti dell'argomento.